Salve a tutti. Questa è la revisione del tutorial di grande successo che avevo rilasciato qualche settimana fa sulle tecniche anti-boot kit. Qui ne mostrerò le versioni migliorate negli ultimi giorni, oltre a farvi ammirare questa fantastica grafica. Per farla ho usato solo un paio di mod e una texture pet da 64 bit nuova di zecca. Ovviamente abbinate a un buon PC. Processore Intel i5 e 4GB di RAM con Windows e Java 64 bit. Purtroppo noterete un po' di lag, ma tenete conto che su questo computer di fatto sto facendo girare due Minecraft col server che sto usando per le prove. In teoria, se la imposto come si deve, questa grafica potrei usarla anche nelle prossime griffate. Tenetevi forte quindi e incrociate le dita con me perché funzioni. Ma ora veniamo al sodo. Vediamo com'è possibile fottere velocemente usando i pistoni le case protette dagli amministratori. Questa tecnica, che abbiamo già visto nel tutorial precedente, serve per fregare materiali preziosi da statue a case protette. Qui è stata molto perfezionata. Ora è velocissima e non richiede più lava o acqua, ma solo dei blocchetti a caso. Quindi può essere usata praticamente ovunque. Per aumentarne la velocità, invece della leva del tutorial precedente, ho collegato il pistone a un generatore di impulsi. Farlo richiede solo 5 blocchi, una polvere di pietra rossa e 4 torce di pietra rossa. Se non volete scavare per la redstone, una buona idea è comprarla negli shop. La costruzione del generatore ad impulsi la vedremo più volte in questo tutorial, memorizzatela. In pratica dovete creare una struttura a calice coi 5 blocchi e, nel centro di questa, metterci la polvere di redstone. Nel cubo in basso invece dovete mettere una torcia redstone per faccia. Fatto ciò mettete il pistone a contatto con una di queste torce, questo automaticamente incomincerà a cambiare posizione. Se tutto va, vi basterà aggiungere blocchi sulla testa del pistone quando questa è retratta per fare in modo che vengano spinti nella zona protetta. In questa tecnica è una buona idea fare in modo che la testa del pistone entri nella zona protetta, i blocchi verranno comunque spinti una volta posizionati, ma eviterete di depositarli lungo il pistone dove possono intralciarvi, in quanto la protezione ve li riporterà in mano. Ancora una volta Bukit ci facilita la vita. Unica nota dolente è che il generatore a volte smette di mandare impulsi, in tal caso spesso è sufficiente riposizionare una torcia per farlo ripartire. Purtroppo mandando impulsi con una frequenza casuale questo può succedere. Un altro vantaggio di questa modifica, consiste nel fatto che potete usare qualunque blocco per spingere fuori dalle strutture protette i materiali che volete rubare. Ciò ha importanti implicazioni. Se usate materiali infiammabili, come vedremo dopo, potete anche dare fuoco alla struttura se questa è infiammabile, ma impossibile da raggiungere con la tecnica della propagazione del fuoco. Se usate blocchi differenti e calcolate bene quanti ne usate, potrete anche disegnare dentro la struttura protetta simboli di ogni tipo. Ovviamente, come avevo già detto nell'altro tutorial, se farete sparire tutti gli altri membri del server, potrebbero accusare gli admin dei vandalismi. Lascio a voi la descrizione dei possibili scenari. Ho modificato la tecnica fill in modo simile alla precedente. Il principale difetto di questa variante delle anti-boot kit era il tempo di esecuzione. Ora invece è il suo migliore pregio. Questa tecnica è senza dubbio la migliore per griffare zone protette a corto raggio. Non solo è molto rapida, ma se sarete furbi vi basterà cambiare l'angolazione dei pistoni sulle quattro torce, anche usandone più di uno con un solo generatore se siete in gruppo, per griffare ad ampio raggio in maniera rapidissima. Io, essendo da solo, in pochi secondi ho griffato questa casa. Immaginate uno di questi marking gemi posizionato in mezzo alle case con un gruppetto di griffer ad usarlo in contemporanea. Questa tecnica consiste nell'utilizzare i pistoni per spingere blocchi sopra una struttura protetta, in modo da creare una scala da cui far cadere acqua o lava. È utile per griffare strutture dove sia protetto anche il cielo sovrastante. Essendo comunque una tecnica più lenta e laboriosa della precedente, rappresenta una seconda scelta rispetto a quella già descritta, in quanto basta un errore di calcolo nel creare gli scalini per perdere un sacco di tempo. Inoltre necessita di acqua o lava abilitati, che non sempre ci sono. È utile soprattutto per colpire strutture molto ampie e in alto, dove anche il cielo è protetto. O per colpire gli spaving point protetti fino al cielo con la lava. Se si usano acqua e lava insieme è possibile anche creare pietra con la tecnica della pietrificazione. L'altro vantaggio di questa tecnica, abbinata alla pietrificazione, è il fatto che è possibile espandere la zona colpita oltre al raggio dei pistoni, come nel caso che vi sto mostrando qui, usando una tecnica simile a quella della piramide descritta da Masteryacal nel video che ho linkato in descrizione. Ora i più furbi di voi avranno sicuramente capito, tecnica anti-buckit flood per raggiungere l'inizio della struttura da griffare, ad esempio un'isola volante, e poi, se si può pietrificare, giù di tecnica della piramide per distruggere l'isola per intero assieme a ciò che c'è sotto. Devastante no. Ulteriore vantaggio non da poco è che, rispetto alle tecniche basate sulla lava, questa basata ha sui pistoni da meno nell'occhio. Quindi può essere usata in alternativa a quella della piramide se gli addomin sono particolarmente furbi. Facendo però attenzione all'armore dei pistoni in movimento. Questa tecnica non l'ho mai descritta. Mi è venuta in mente dopo aver risposto a un post nel forum del covo fatto da H2 Giulio, che voleva entrare in una fortezza protetta senza né porte né buchi. Concettualmente è molto semplice. Dato che con queste nuove tecniche, al contrario delle precedenti, è possibile spingere nelle strutture protette, blocchi di qualunque tipo, e anche possibile utilizzare blocchi infiammabili. Una volta posizionati questi ultimi, sarà sufficiente appiccare il fuoco con un accendino o con la lava per bruciare tutto. Se la struttura non è infiammabile, questa tecnica può essere usata comunque per aprirsi un varco, in quanto i pistoni sposterebbero i blocchi del muro originale, lasciando il posto ai blocchi infiammabili che verranno distrutti dal fuoco. Potrei chiamare questa sottotecnica, fuoco tagliaporta. Che ne pensate? Il principale vantaggio di questa anti-boot kit sulla normale tecnica della propagazione del fuoco, oltre alla possibilità di creare varchi come già descritto, è un maggior raggio d'azione. Garantito dai blocchi infiammabili spinti dal pistone. Le principali pecca sono invece tre. Per usarle il fuoco deve essere abilitato e inoltre bisogna avere molto culo. Infatti non sempre il fuoco riesce a propagarsi fino alla struttura o a bruciare abbastanza blocchi per aprire dei varchi. Inoltre la pioggia può spegnere il fuoco. Per questo anche lei è una procedura di seconda scelta rispetto alla fill. Utile soprattutto se si vuole rubare in ceste sprotette dentro strutture protette non attaccabili altrimenti. Mrant93 ha trovato un modo per entrare in zone protette sospese nel vuoto molto più semplice. Guardate il suo video se avete questa necessità. Con questa ho concluso. Se volete mettete un mi piace, commentate o aiutatemi a diffondere questo video. Arrivederci alla prossima.